Buonasera a tutti fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Dopo la partita di oggi ho una domanda molto facile per tutti voi. Qual è il vostro obiettivo? Qual è il vostro obiettivo? Rispondete ora. Il vostro obiettivo è quello di farmi morire di infarto? È quello di farmi passare delle serate del genere e di farmi diventare pazzo? Qual è il vostro obiettivo, cari giocatori dell'Inter? Perché qua parliamoci chiaro, eh? Oggi, meno male che l'Inter ha sconfitto ai tempi supplementari di Parma. Ma oggi noi dobbiamo baciare per terra. Noi oggi ci dobbiamo ritenere fortunati perché oggi l'Inter ci ha fatto passare una serata infernale. Cioè, non è possibile eliminare il Parma ai tempi supplementari. Non puoi eliminare ai tempi supplementari una squadra di Serie B. Partiamo da questo. Cioè, perché ragazzi, non giudicate solo il risultato finale. Qua bisogna giudicare un po' di cose perché, ripeto, oggi dobbiamo ritenerci fortunatissimi. Fortunatissimi. Perché io non ho visto nessun passo avanti. Ho visto la stessa Inter del secondo tempo di Monza. C'è una squadra spenta, senza energia, senza grinta, senza orgoglio. Che ha passato tutto il primo tempo a giochichiare e a ruminare gioco, senza mai creare occasioni. Poi, naturalmente, il Parma ha segnato quell'Eurogoal da 20 metri. Sei stato chiamato a recuperare. Hai creato delle occasioni. Ma, ha detto ciò, l'hai pareggiata all'86esimo. All'86esimo, amici, eh. Diciamoci la verità. L'hai pareggiata dopo 86 minuti disgustosi. Perché per 86 minuti io ne ho dette di tutti i colori, eh. Cioè, l'Inter non ha fatto nulla per 86 minuti. Non è possibile partire sempre con questa mentalità scadente. Perché, detto questo, pure a Monza tu hai dimostrato di non avere la mentalità della grande squadra. E l'hai dimostrato pure oggi. Pure oggi hai dimostrato di non essere una squadra mentalmente forte. Perché se sei una squadra forte, il Parma lo devi regolare già nel primo tempo. E non mi interessa. Non voglio parlare delle seconde linee, ragazzi. Perché, numero uno, quelli che sono partiti titolari oggi, non tutti erano seconde linee. Perché Devrai fino all'anno scorso era titolare. Danfries è un titolare. Lautaro è un titolare. Gosens non è un titolare, ma comunque è un giocatore d'esperienza. Gagliardini non ne parliamo. Vabbè, Gagliardini non ha neanche senso giudicare la sua prestazione. Ha fatto un errore nel primo tempo supplementare. Ci ha regalato un assist incredibile al giocatore del Parma. Che meno male l'ha sparata fuori. Ma io vi dico questa cosa, eh. Voglio mandare questo messaggio allo staff medico dell'Inter. Barella, anche se ha il 20% nelle gambe. E anche se ha un piede mezzo rotto, deve sempre partire dal primo minuto. Sempre. Ora lo volete recuperare per la partita col Verona? Ecco. Col Verona Barella deve partire titolare. Non mi interessa nulla che ha un piccolo problema, che ha un dolorino. Non mi interessa. Perché Barella, anche senza un piede, sarà sempre cento volte meglio di Gagliardini con due piedi. Questo è certo. Perché, mamma mia, ragazzi, uno non può commettere tutti questi errori. Per me è pure difficile parlare male di Gagliardini. Perché è come dire che l'erba è verde. Cioè, purtroppo ce lo dobbiamo tenere. Perché non lo vuole nessuno, giustamente. Hai pagato pure 20 milioni all'Atalanta. Cioè, per Cassi così ora. Per Cassi sta godendo danni per quella cessione di Gagliardini. E questa è la dimostrazione che quando ti diverti a buttare i soldi fuori dalla finestra, poi vieni punito. Perché ce l'hai in rosa da due anni. Non te ne puoi liberare. E detto ciò. Che ci possiamo fare. Ma, detto questo, mentalità scadente. Il Parma ci ha fatto ballare la samba. Ci ha fatto passare una bruttissima serata. Meno male che poi hai pareggiato con quel tiro deviato di Lautaro Martinez. Poi l'hai risolta nei tempi supplementari con quel gol di Acerbi che ha segnato di testa da 50 metri. Però, ragazzi, mentalmente non ci siamo. Mentalmente la squadra non dà nessun segnale positivo. Ed io sono preoccupato un po', ragazzi. Vi dico la verità. Non, ripeto, non giudicate solo il risultato finale. Perché sì, è vero, la Coppa Italia è una competizione particolare. È vero che devi vincere. Non devi sempre giudicare il gioco. Però, ragazzi, hai passato il turno contro la sesta squadra del campionato di Serie B. Ricordiamoci, il Parma è sesto in classifica in Serie B. E tu hai dovuto sudare dieci camice per eliminarlo. Se questa è la mentalità, ragazzi, non andiamo d'accordo. Ma non andiamo d'accordo nella maniera più assoluta perché, ripeto, ti può andare bene una volta. Ma poi, in Serie A, soprattutto contro delle squadre più forti, se fai delle prestazioni del genere vieni punito. E, ripeto, non giudicate, non tirate fuori la frase «Eh, ma oggi hai fatto giocare alle riserve». Non è un problema di titolario riserve. È un problema di mentalità generale della squadra. E la squadra, per il momento, non ha una mentalità da squadra forte. Perché se sei una squadra forte, a Monza vinci con tutte le difficoltà del caso e non impieghi 120 minuti per piegare il Parma se sei una squadra mentalmente forte, con un carattere vincente. Se sei una squadra forte, con un carattere vincente, a Monza vinci e col Parma non ci impieghi 120 minuti. Fine della storia. Per non parlare dei singoli, ho parlato di Galliardini, ma potrei parlare due ore di Correa che ha fatto... Correa sarebbe in grado di far diventare violento pure Gandhi. Perché uno non può non segnare a porta vuota a maggior ragione se è stato pagato 30 milioni. 30 milioni gentilmente regalati al signor Lotito. Ringraziamo il signor Inzaghi, che ha premuto per portarlo all'Inter e ha ottenuto dei risultati strepitosi in questo anno e mezzo di Correa all'Inter. Ma al di là dell'errore clamoroso, uno non può giocare con questa superficialità così. Sembra il principe azzurro Correa. Così, così. Tutto tranquillo. Con questa bella faccia da modello. Potrebbe fare il modello, Correa. Ti do un consiglio. Tu potresti cambiare lavoro. Potresti fare o il cuoco che fa il barbecue, o l'uomo che fa il barbecue, o il modello. Perché sei bello, hai tante ragazze che ti vogliono, che si vorrebbero fidanzare con te, ma ti do questo consiglio. Non scendere più in campo. Perché un atteggiamento così mi fa salire il sangue al cervello. Vedere un giocatore giovane che nel pieno della sua carriera entrare in campo con un atteggiamento superficiale, un atteggiamento da ragazzino viziato di undici anni, queste cose davvero mi fanno fumare il cervello. Perché io posso accettare degli errori, delle prestazioni deludenti, posso accettare tutto, ma non voglio vedere atteggiamenti di questo genere. Queste cose mi fanno impazzire. Sì, è più forte di me. Cioè, Lautaro oggi non ha fatto una partita straordinaria, anche se ha segnato il gol del pareggio che ha suonato un po' la carica. Però lo vedi, ci mette una grinta, una voglia, una cattiveria, che se Correa avesse un decimo della cattiveria di Lautaro sarebbe quasi un giocatore accettabile. Cioè, mettesse un decimo, non ho detto un decimo della grinta che mette Lautaro, che si è preso gomitate, falli. Cioè, non ha fatto una partita straordinaria, ma almeno ci mette la grinta. Come ci mette la grinta anche un giocatore come Acerbi, che oggi ha segnato il gol decisivo, che ci ha fatto passare il turno, insultato da tutti. Non è Beckenbauer, non è Sandro Onesta, non è Walter Samuel, ma è uno che si fa il mazzo. Io non posso vedere queste cose. Cioè, è più forte di me. Dei valori positivi li deve trasmettere dall'allenatore. Inzaghi è particolarmente fortunato in Coppa Italia, che ieri, l'anno scorso, ha passato il turno con l'Empoli al 94esimo col gol di Ranocchia. E quest'anno ha dovuto superare il Parma ai supplementari. Oggi, ripeto, ci è andata bene, però, ragazzi, se continuiamo così, le cose sono destinate certamente a non migliorare. Condivido, è vero, sulla carta lo striscione della curva, che dice 10 punti, un girone di ritorno da giocare, crediamoci, ma, ragazzi, i primi che sono obbligati a crederci sono i giocatori. E non mi sembra di vedere una squadra agguerrita col sangue agli occhi. Lo dico nonostante la vittoria di oggi, che per me è stata una vittoria fortunata. Lo dico, molto fortunata, Inter brutta e deludente, soprattutto. Però abbiamo passato, ora non so chi incontreremo, forse sì, penso che sia il vincente tra Milan e Torino, che quasi sicuramente sarà il Milan, ma al di là di questo, non si può andare avanti così. Ah, ma l'è sempre forza Inter. Solo il successo. Io fossi nell'ufficio stampa dell'Inter, non farei andare a parlare a nessuno oggi, zitti, e lavorare, perché è come fosse una mezza sconfitta. Abbiamo evitato una figuraccia, diciamola così.